Grazie a tutti. E dobbiamo fare grande questa città, questa città che ha tutte le possibilità per diventare grande, per diventare grande davvero come qualcuno magari ogni tanto ci scherza anche sopra. Abbiamo bisogno di tutti però perché abbiamo considerato qualche settimana fa, qualche mese fa questa come una vera e propria fase costituente di questa città. Con tutte le opportunità dei prossimi anni, del prossimo quinquennio, abbiamo ritenuto che non era possibile che una parte sola politica pur vincendo le elezioni potesse decidere del futuro strutturale dei prossimi 50 anni di questa città. E allora tutti insieme, i padri costituenti tanti anni fa, la Costituzione l'hanno scritta tutti insieme. Noi abbiamo lo stesso dovere, abbiamo bisogno di mettere più persone possibili, più pensieri possibili, più opinioni possibili, più esperienze possibili per scrivere la Costituzione di questa città, per affrontare questa vera e propria fase costituente. Ecco perché siamo tanti, ecco perché siamo la grande alleanza. La sintesi di una coalizione così ampia e composita qual è? La sintesi di questa coalizione ampia e composita è Walter Musillo candidato sindaco. Io mi onoro di aver fatto sintesi da tutte queste diversità, da questa coalizione assolutamente eterogenea che però si stringe intorno a un nome, non in quanto nome ma in quanto progetto, in quanto progetto capace di poter mettere tutti insieme. Quando si è tanti, quando si è pochi è più facile pensare al proprio tornaconto come purtroppo tante volte succede in politica. Quando invece si è tanti non si può che avere un'unica ragione, quella della città, quella di questa nostra straordinaria città. Non ci sono interessi personali perché siamo tanti e questi tanti stanno pensando al futuro di questa città. L'emergenza più grande è quella che bisognerà affrontare prima di ogni altra questione perché Taranto possa tornare ad essere una città che guardi con prospettiva al proprio futuro? L'emergenza più grande è la ricostruzione di questa città, il ricollegamento di questa città. Questa città è disconnessa, noi dobbiamo riconnetterla, dobbiamo rimettere dentro questa unica città tutte le nostre periferie e riconnetterle al resto della città. Quando parlo di riconnetterla non mi riferisco solo e soltanto a un efficiente trasporto pubblico, ma riconnettere una città significa mettere tutti i cittadini in qualsiasi posto abitano, a riuscire a dare a tutti questi cittadini le stesse opportunità, le stesse possibilità, la stessa qualità della vita. Questa è una emergenza di questa città. Entrando invece nello specifico, dal punto di vista programmatico, abbiamo altre esigenze importanti per costruire il futuro. Il nostro futuro, se lo consideriamo rispetto alla risorsa del mare, non può essere avviato senza un piano delle coste condiviso con tutta la cittadinanza, con tutte le associazioni, con tutti gli operatori, con tutti quelli che credono davvero che la risorsa del mare sia il primo punto di svolta economico, sociale e culturale di questa città. Un'ultimissima domanda, che campagna elettorale state affrontando e quale giudizio dà su questa campagna elettorale che all'inizio però ha già prodotto molte attività? Questa deve essere, io l'ho detto dal primo momento, una campagna elettorale di confronto, una campagna elettorale di idee. Io mi auguro, ma devo dire che tutto sommato al netto di qualcuno, di qualche ultratifoso, è una campagna elettorale che si sta svolgendo davvero con garbo, con educazione. Certo con punti di vista differenti, noi siamo alternativi all'altra coalizione, per capirci alla coalizione di Michele Emiliano. Noi siamo fortemente alternativi, per questo siamo in campo, però detto questo, credo che in ogni luogo, anche in questo momento, ci stiamo confrontando con le nostre idee, stiamo dicendo la nostra, stiamo proponendo il nostro modello di città, poi saranno i cittadini ovviamente ad apprezzare l'uno o l'altro modello o l'altro ancora, perché ci sono più di due candidati. Grazie.